E' stata attivata già da qualche mese dall'ASP di Agrigento su tutto il territorio agrigentino la distribuzione dei farmaci innovativi per la terapia e la cura dell'epatite C. A darne comunicazione il direttore generale dell'ASP di Agrigento Salvatore Ficarra, il quale sottolinea che si tratta di un risultato ottenuto dall'attuale dirigenza, essendo stata l'ASP tra le prime ad attivare questo tipo di distribuzione. L'epatite C è una malattia virale che colpisce in primo luogo il fegato. L'infezione è spesso asintomatica ma la sua cronicizzazione può condurre alla cicatrizzazione del fegato. Prima di questi nuovi farmaci i pazienti erano destinati alla cirrosi epatica con conseguenze spesso mortali e destinati al trapianto di organi. Già 40 pazienti su una proiezione annua di 75 sono stati arruolati dall'ambulatorio di epatologia, centro di riferimento provinciale del presidio ospedaliero di Agrigento, collaborato dal centro di elegibilità del presidio di Sciacca. Il costo medio di una terapia è di circa 35 mila euro e ha visto sia un notevole sforzo economico da parte dell'ASP di Agrigento per reperire i fondi, essendo la spesa prevista per l'anno 2015 di 2 milioni 150 mila euro, sia organizzativo da parte del dipartimento del farmaco dell'ASP per la successiva dispensazione diretta. I costi sono a totale carico dell'azienda sanitaria e nulla è dovuto da parte del cittadino. Per i pazienti la procedura di approvvigionamento risulta estremamente semplice, atteso che una volta effettuata la diagnosi il farmaco potrà essere ritirato presso il punto di distribuzione diretto della farmacia ospedaliera del presidio San Giovanni di Dio di Agrigento.